Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di tv city in apertura la cronaca con la lotta allo spaccio a torre annunziata sette arresti alle prime luci dell'alba passiamo ora all'emergenza sanitaria con le polemiche sul green pass sarà necessario per accedere a stadi e ristoranti evento alla de nicola sasso per celebrare la socialità fra i giovani alunni sport e spettacoli per favorire la coesione in conclusione lo sport con i nuovi acquisti della turris che si prepara al prossimo campionato con il ritiro di giovedì questo ed altro nei nostri servizi i carabinieri del comando provinciale di napoli questa mattina alle prime luci dell'alba hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di torre annunziata su richiesta della procura nei confronti di sette indagati ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di cocaina crack e marijuana le indagini svolte da parte dei militari della compagnia oplontina e coordinate dalla procura di torre annunziata hanno permesso di monitorare circa 500 episodi avvenuti in meno di due mesi nella città e in altri comuni dell'area vesuviana un intervento che si colloca nel piano per combattere i fenomeni di criminalità sempre più evidenti nel comune oplontino polemiche sul green pass forse sarà necessario per entrare al ristorante sono in arrivo le convocazioni per le riunioni del comitato tecnico scientifico e poi della cabina di regia con il presidente del consiglio mario draghi sulla spinosa questione del green pass che porterà il nuovo decreto anti covid da varare in settimana con un lascia passare allargato e più stringente inutile creare confusione intorno al green pass gli allarmismi sono dannosi per i cittadini il turismo e per tutta l'economia nel suo complesso a dirlo il ministro del turismo massimo garavagna e sottolinea il green pass assenso solo per entrare in discoteca o allo stadio o per partecipare a grandi eventi che prevedono una grande affluenza di pubblico il green pass allargato con il ciclo completo di vaccinazioni non più una sola dose dovrebbe entrare in vigore inizio agosto anche per evitare cambi di colore delle regioni e mantenere l'italia bianca almeno fino a metà mese il certificato per immunizzati guariti dal covid o tamponati negativi entro le 48 ore potrebbe essere obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso ma ci sarà battaglia scontato che venga richiesto per stadi piscine palestre concerti e tutte le attività collettive i nuovi parametri di rischio per le regioni e la proroga dello stato d'emergenza dovrebbero incontrare meno ostacoli secondo le previsioni i principali partner della maggioranza hanno visioni distanti su vaccini e utilizzi del certificato verde in un panorama che vede contagio e il tasso di positività crescere con la variante delta del coronavirus anche se le terapie intensive e reparti ordinari non preoccupano polemiche della lega di matteo salvini che nega di essere novax ricorda i genitori vaccinati ma poi evoca il figlio 18enne mi rifiuto di vedere qualcuno che lo insegue con un tampone o una siringa prudenti sì terrorizzati no e sul green pass dice leggevo di multe i 400 euro se uno deve farlo per andare a prendere il caffè in piazza intanto ne sbarcano a carrettate in sicilia senza parlando dei migranti intanto la pandemia domenica fa segnare un altro giorno oltre i 3.200 casi con un tasso di positività che a fronte dell'usuale crollo di testa del sabato sale fino all'1,9 per cento i pazienti in terapia intensiva però dopo tre giorni di aumento tornano a calare e quelli in nere parti ordinari salgono di 25 non un dato impressionante le vittime sono solo tre ai livelli tra i più bassi dell'anno un focolaio da euro 2020 si segnala a firenze con tre persone positive nove in quarantena a seguito della finale italia inghilterra davanti a maxi schermo di un locale all'aperto quello di roma nel pub di monteverde per la sfida di gli azzurri con il belgio ai quarti e al momento il più grande d'italia con oltre 90 casi in francia invece un gruppo di 70 maestri di sci del friuli venezia giulia è rimasto bloccato per diverse positività durante un corso Ensino che noi siamo Katia Parola Grazie Parola 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 Alunni a scuola in estate, traballi e divertimento. Sono stati due anni difficili per gli studenti di tutta Italia. La pandemia e le misure per prevenire la diffusione di contagio hanno tolto alla scuola uno dei suoi meriti più importanti, quello di favorire la socialità e creare coesione tra i compagni di classe. La Dada è inevitabilmente separato di studenti, specialmente i più piccoli, che maggiormente avevano bisogno delle amicizie che possono venersi a creare solo fra i banchi di scuola. Per questo motivo alla Denkolasasso di Torre del Greco, in accordo con un PON previsto dal Ministero dell'Istruzione, i giovani alunni sono tornati in classe anche nelle prime due settimane di luglio, con i progetti Denkolas Summer Camp e Estate a Scuola. In pochi giorni realizzare tutto questo è davvero una grande impresa e ci siamo riusciti altamente. Quindi voglio fare i complimenti soprattutto ai nostri alunni, che sono stati bravissimi, hanno dimostrato anche loro delle competenze nel ballo, nel nato, quindi di buon auspicio anche per il loro futuro, una carriera futura, anche come attori e quant'altro, anche ballerini. Voglio complimentarmi anche con i tutor, perché hanno dimostrato anche loro delle competenze, perché comunque hanno collaborato con i tutor e hanno dimostrato, scusate, con gli esperti che hanno dimostrato delle elevate competenze, anzi delle competenze specifiche per i loro moduli assegnati. E naturalmente faccio ringraziamenti a tutto il mio staff di presidenza, anche al professore Perfiero Romano, perché ho organizzato alla grande tutto questo, alla mia soglia, alla soledaria Marianna Di Vito, che senza di lei tutto questo non ci potrebbe realizzare. Grazie a tutti per portare il ruolo, ecco perché l'importanza della collaborazione tra dirigente e segretario esige a questo, dai risultati che abbiamo visto stasera, si evince l'armonia che c'è tra di noi e non voglio dimenticare i collaboratori ristorastici, che spesso ce ne dimentichiamo, anche loro hanno un po' più importante per la realizzazione di questi moduli e anche per avviare già questo evento finale. I complimenti a voi ragazzi, i complimenti ai tutor, i complimenti ai vostri insegnanti, i complimenti a questa scuola che fa sempre emozionare tantissimo il sottoscritto. Ultimamente abbiamo avuto un sacchetto selvaggio e voi avete fatto delle cose eccezionali. Quindi questa ripresa per noi è fondamentale, io spero che a settembre ci rivediamo e ci dobbiamo rivedere in presenza, ognuno di noi sta cercando di lavorare in modo migliore perché non possiamo stare in dante, non potete praticamente, nello stesso tempo non dobbiamo rischiare e dobbiamo quando prima far sì che questo tunnel, che ormai piano piano stiamo trovando le luci di questo tunnel, lo troviamo definitivamente in modo tale che i ragazzi vivano quello che devono vivere perché loro piace stare insieme, piace stare come stanno in questo momento. Quindi grazie per quello che avete fatto e complimenti a tutti quanti voi. Lo scopo di entrambi i moduli è stato proprio quello di favorire la socialità, organizzando spettacoli divertenti oppure creando vere e proprie competizioni sportive, le denicoliadi. Grande partecipazione da parte dei giovani alunni che non hanno perso l'occasione per recuperare due anni di amicizia, scherzi e risate, persi a causa del Covid. Parte oggi con il raduno allo Stadio Liguri la stagione 2021-22 della Turris, un inizio soft per la squadra che anche quest'anno sarà agli ordini di mister Caneo. Non sono previste infatti sedute di allenamenti che invece avranno luogo a partire da domani. Ritiro invece in programma da giovedì 22 a Campitello Matese. Dopo la salvezza, ottenuta non senza qualche affanno nel finale, i Corallini punteranno di nuovo al mantenimento della categoria, con una squadra rinnovata nei suoi effettivi e dando spazio a giovani interessanti. In questa fase di mercato si registra infatti in primis l'addio dello storico capitano Longo, approdato alla Fragolese in Serie D, mentre in entrata arrivano tre giovani calciatori provenienti dal Parma, il difensore 2001 Lucarelli, figlio di Alessandro, già giocatore e ora dirigente del club emiliano, il centrocampista 2001 Palmucci e l'attaccante 2000 Pavone. A raduno saranno presenti anche alcuni calciatori che sembrano avere le valigie pronte, come a Bagnale, Dadalt e Rainone, mentre rientrato dal prestito da Brescia, Pandolfi. Attesa ora per la composizione dei gironi della nuova Serie C, con suddivisione orizzontale da nord a sud, similarmente al passato campionato, mentre il primo impegno ufficiale sarà in Coppa Italia tra i giorni 13 e 14 agosto. e con questo è veramente tutto, vi vedo l'appuntamento a domani con altri servizi.